Ho fatto tre figli qua, la moglie siamo tutti bene qua sinceramente, però purtroppo sto lavorando in un posto dove le mie idee magari non sono condiviste e questo mi fa un enorme dispiacere e quindi devo prendere una decisione. Quando? Quando? È un anno che io ci sto pensando ed è difficile, non riesco a dormire già da un bel po', spero che qualcuno mi aiuti per prendere la decisione giusta. È quasi sicuro ormai? Sì, io praticamente dal punto di vista lavorativo ho deciso di cambiare. Io voglio soltanto giocare e voglio una società che condivida le mie idee, anzi che io condivida le loro idee in maniera di lavorare in armonia. Evidentemente non cercherò una società che abbia fatto peso ultimamente della Fiorentina, questo è evidente. L'unica cosa che io mi auguro è che dopo tutte queste parole la gente apprezzi la mia sincerità e basta, che sarà finito, che si faccia nella maniera giusta. È un argomento delicatissimo. Personalmente io sono come tutti i difusi, con il cuore lo voglio tenere. Il cuore prevale anche sulle ragioni tecniche, sulle ragioni di soldi alla fine perché poi il mondo di oggi si trova sempre da quadrare le situazioni, sono vantaggi e svantaggi. A meno che il giocatore non voglia proprio andare via, per me Battistrutta è della Fiorentina.